Buongiorno, io sono Camelia e oggi prepariamo il castagnole con il mio ingrediente secreto. E vediamo di che cosa abbiamo bisogno. Per preparare le castagnole abbiamo bisogno di 2 uova, 100 g di miele, farina, 50 g di amido di mais, un pizzico di sale, 8 g di lievito per i dolci, 280 g di kefir, l'ingrediente misterioso di oggi è la farina di castani, 120 g di farina di castani. Questa è la mia ricetta, questi sono i miei ingredienti. Iniziamo a preparare. In una ciotola rompiamo le uova. Mettiamo il miele. Mettiamo il miele. Aggiungiamo il sale, il kefir e mescoliamo bene tutto. E una volta che gli ingredienti sono mescolati bene, uniamo il lievito. E uniamo la farina di castani, l'amido di mais, e la farina lo mettiamo un po' per volta. Se c'è bisogno aggiungiamo l'altra e mescoliamo. Mettiamo l'altra parte. La farina. La farina. La farina. La farina. La farina. La farina. come rossi ce bisoniu aggiungo un'altra farina il pasto è pronto questa è la consistenza adesso lo copriamo e lo facciamo riposare da 15 a 30 minuti trascorso il tempo di riposo dividiamo l'impasto con piccole porzioni quindi 10-20 grammi prendiamo e poi facciamo le palline ecco si mettiamo con poca poca farina mettiamo e facciamo leggere e continuiamo così ora non ci resta che tuffiamoli nell'olio adesso le tuffiamo nell'olio verifichiamo l'olio come sono cicadenti ok 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 le castagne onglie sono pronte sono dorate se si aprono significa che sono cotti dentro e adesso li prendiamo e li mettiamo sulla carta assorbente guardate che meraviglia questi sono le castagne apriamo una per vedere come sono guardate possono essere riempite con la crema possono essere tuffate nel cioccolato nello zucchero a velo e nel miele prendiamo la castagnola la tuffiamo nel miele guardate una bontà oppure nel cioccolato assaggiate assaggiare per vedere come sono una delizia castagnole con ingrediente sorpresa e li tuffiamo anche nello zucchero temolato queste sono le mie castagne con il mio ingrediente secreto semplice possono essere riempite con la crema con il miele con il cioccolato e con lo zucchero semolato di castagnole di camelia vi ringrazio a tutti vi abbraccio forte e ci vediamo alla prossima ricetta ciao 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 ciao